Si apre con un minuto di silenzio il Consiglio Comunale di Rapallo, la prima seduta in presenza dall'inizio della pandemia da coronavirus. Il presidente mentore campodonico ricorda due ex consiglieri comunali scomparsi recentemente, Gianfranco Gianello di Casaleto e Stefano Pendola. La riunione affronta l'analisi del rendiconto di gestione 2019 in cui sono indicate le spese e le entrate effettivamente sostenute dal Comune nell'arco dell'anno. Queste le cifre, 19.534.378 euro di fondo cassa, un avanzo totale di 10.651.162 euro e un avanzo disponibile di 2.164.445 euro. Il documento passa con i voti favorevoli della maggioranza, assente il consigliere Tasso, e il parere contrario dell'opposizione. La capogruppo dei 5 Stelle De Benedetti sottolinea alcuni aspetti evidenziati dalla Corte dei Conti, il ricorso frequente la procedura d'urgenza, la mancata tempestività di alcuni pagamenti, aprendo poi una parentesi sull'incertezza del futuro. Si è chiuso un bilancio, diciamo, ancora appartenente a un'epoca normale, dove tutto correva normalmente. Ora ci chiediamo quale sarà il futuro invece, che cosa si prevede per i prossimi anni, vista l'enorme crisi finanziaria che stiamo attraversando. Sollecitato sui ritardi nell'esecuzione di alcuni cantieri pubblici, il sindaco Bagnasco ha così risposto. Noi stiamo facendo delle pressioni politiche in positivo per il San Francesco, ma noi sul San Francesco abbiamo seguito tutto l'iter. Nel panorama, aperto dall'emergenza Covid, un'incognita importante rappresentata dalla gestione e della riapertura dell'anno scolastico. L'amministrazione ha sostenuto con 21.000 euro tutte le scuole, anche paritarie. Ha erogato 819 pasti giornalieri e ha aiutato 243 famiglie nell'affrontare le spese per il trasporto e la mensa. I nuovi scenari tuttavia aprono all'incertezza. Alle scuole di ogni tipo, anche alle scuole paritarie, che per noi sono molto preziose, affinché alle stesse si possa dare un contributo straordinario, sia per permettere loro di far fronte alle maggiori spese, sia per risolvere il problema del rapporto didattico che per le scuole dell'infanzia, ora è 1 a 5. E parliamoci chiaro, o danno, e sembra che lo diano, degli strumenti straordinari, straordinari alle amministrazioni, ai sindaci, oppure è impossibile realizzare qualcosa.